Buongiorno a tutti, allora proseguiamo, proseguiamo con l'ultima giornata prima della sosta del fantacalcio Lague e vediamo com'è andata. Allora, 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 le sfide sono state, partiamo subito con la prima FC Inda che sfidava la Suppostib. Vediamo come le due squadre sono scese in campo. FC Inda è scese in campo con Chesley in porta, Danfris, Bastoni e Carlos Augusto in difesa. Spettate che... ecco fatto. Zelisky, Luis Alberto, Filipe Anderson e Bonaventura centrocampo, ma Bonaventura, giustamente, visto che si giocava contro il Milan, si è inventato il dolorino e al suo posto ha giocato Lobotka. Infine in attacco, Piontek, Lautaro Martinez e Leao, Meravigliao, che fa il cacao, eccetera eccetera. La Suppostib è scese in campo con Vicario in porta, Danilo, Caluno e Di Lorenzo in difesa, Quadrado, Tonali, Cialanoglu e Zaniolo a centrocampo, Giroud, Abram e Petagna in attacco. Vediamo come è andata, ricordando che nell'ultima giornata entrambe le squadre avevano vinto e soprattutto la Suppostib aveva sorpreso tutti battendo la capolista. Quindi vediamo se stavolta... Comunque Suppostib, portiere, 7 e 7 rimane. Difesa 18 e 18 rimane. Centrocampo 24 e mezzo, 24 e mezzo rimane. Attacco, andiamo a vedere un attimino l'attacco perché un punticino in più l'ha fatto questo attacco, questo simpatico attacco della Suppostib. perché infatti abbiamo l'assist di Giroud, Giroud ha fatto l'assist e quindi 18 e mezzo, per un totale di 68, quindi la Suppostib riesce a fare uno gol, uno gol per la Suppostib. Ha risposto FC, in da portiere 6 e 6 rimane. Difesa 20 però, abbiamo un Carlo Augusto on fire che segna e fa pure l'assist, quindi 24, sorpresora di questo campionato, ma il buon catto l'aveva detto, attenzione a Carlos Augusto. Difesa, centrocampo 25 però, c'è il gol del Bonzelinski e quindi si sale a 28. Infine l'attacco 19 e mezzo, ma abbiamo gol di Leao, Assis di Martinez e quindi si sale da 19,5 a 23,5. Per un totale da doppia libidine coi fiocchi di 81,5. Quindi Suppostib FC in da 1 a 4. FC in da è on fire. Veramente record di giornata, tra l'altro, ve lo anticipo, 81,5, tanta tanta roba. Proseguiamo con la seconda partita, quella tra la Joao Norris. Era la sfidona tra milanisti, la Melino Stim contro la Joao Norris. E quindi andiamo a vedere com'è andata questa sfida. partendo dalla Melino Stim che è scesa in campo con Montipò in porta, Mario Rui, De Vrij e Theo Hernandez in difesa, Kandreva, Pasalic, Kostic e Juricic a centrocampo, Kaputo, Arnautovic immobile che non ha giocato ma è stato sostituito da Beto in attacco. La Joao Norris ha risposto con Beret in porta, Mahele, Mahele, Smalling e Kimi in difesa, Locatelli, Koppmeiner, Smirinko Vissavic e Blasic a centrocampo, Pina Bonti, Dia e l'onipresente Ossiman in attacco. Vediamo com'è andata. Melino Stim, portiere 7,5 da libidi nel buon Montipò ma non è bastato per salvare il povero Verona e quindi ha preso due golpi di 5,5. Difesa 17,5 però ci sono due gialli di troppo, uno a Mario Rui, uno a De Vrij, quindi 16,5. Centrocampo 22,5 ma abbiamo il rosso a Kandreva, il giallo a Diuricic quindi da 22,5 si scende a 21, non ha segnato nessuno, nessun assist tra difesa e centrocampo. in compenso due punti e mezzo in meno per le sanzioni prese dai giocatori. Meno male che il solito Ossiman il golletto l'ha fatto perché l'attacco avrebbe fatto 18 più i 3 del gol di Ossiman si sale a 21. Per un totale di 64 la capolista è stata un attimino asfittica, non segna neanche un gol, anzi scusate, l'Amelino Steve è stata asfittica. Vediamo invece la capolista cosa ha combinato. È la Joe Norris. Joe Norris, portiere 6,5, però anche lui prende due gol, scende a 4,5. Difesa 15,5 ma resta così perché nessun assist, nessun gol, da beata Giovanna. Centrocampo 24, però abbiamo l'assist di Copminers e il giallo a Milinko Missavic, quindi si sale a 24,5 di mezzo punto. Attacco 17,5 ma Ossiman non poteva non mancare a pucciare il biscottino, e quindi 17,5 si sale a 20,5. Per un totale incredibile di soli 65. Quindi l'Amelino Steve e la Joe Norris fanno uno squallido, schifoso, osceno, mettete quello che volete, 0 a 0, che però serve sempre per muoverla classifica. Concludiamo, signori e signori, con la sfida tra Interlive e Forza Juve. Vediamo come sono scese in campo le due formazioni. Interlive è scese in campo con Audero in porta, Di Marco, bastoni dello Spezia, e Cambiaso in difesa, però Cambiaso nel Bologna non ha giocato, al suo posto ha giocato il buon Biraghi. Centrocampo con Frattesi, Barella, Bairami, Quaraschiglia, che però è ancora in convalescenza, speravo lo portasse in panchino, magari entrasse e pucciasse il biscotto, invece non ha giocato, e quindi al suo posto ha giocato Lazovic. In attacco, Satriano, Henry e Enzolat. Ha risposto Forza Juve con Tatarussano in porta. Bonucci, Celic, Tomori e Bremer in difesa, ma Bonucci non ha giocato al suo posto, è subentrato il buon Celic. Centrocampo, Pessina, Strefezza, Becquet-Taler, che o non hanno giocato, o non ha preso senza voto, no, non ha proprio giocato, non è proprio entrato in campo, ed è stato sostituito comunque da Ederson. E Paredes, che invece è entrato in campo, ma non ha avuto il minuciataggio sufficiente per prendere il voto, ed è stato sostituito da Ricci, giocatore del Torino. Infine, in attacco, Di Maria, Capravi, Raspadori, Raspadori, però non ha giocato al suo posto, ha giocato l'Ambers. Andiamo a vedere com'è andata la sfidona. Interlai, portiere, 6, però ha preso due gol, 4. Difesa, 18,5, però abbiamo, eh, signori miei, l'assist di Di Marco e l'assist di Bastoni, quindi 20,5. Centrocampo, 23,5, non c'è la beata Giovanna, non c'è Abolizioni, non ci sono, assist, non ci sono gol, resta 23,5. Attacco, 19, però abbiamo la doppietta di Enzola, Enzola, tutturu 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 tutturu, e quindi si sale a 25, per un totale di 73, quindi Interlai, i suoi due gol, gli ha fatti. Vediamo cosa ha combinato invece Forza-Giuwe. Portiere, 6, ha preso un gol, 5. Difesa, 19, ma c'è il giallo a Bremer, 18,5. Centrocampo, 24,5, però c'è il rigorino di Beppessina, 27,5. Non ci sono gialli, quindi 27,5, l'Ibidia, infine attacco, 18, ma resta 18, nessun giallo, nessun gol, nessun astri, da beata Giovanna, per un totale di 68, quindi Forza-Giuwe, il suo golletto l'ha fatto, però non basta. Quindi Interlai batte Forza-Giuwe, 2 a 1. E adesso, signori, andiamo a vedere questa classifica al termine di questo inizio di fantacalcio laghe, che poi riprenderà al 3 gennaio con le gare della sedicesima giornata del campionato di Serie A, che per noi sarà la dodicesima giornata. Quindi andiamo subito a vedere questa bella classificona. Sì, perché la classifica si fa interessante e molto, molto ravvicinata, proprio perché, ahimè, per il buon condottiero, chiamiamolo così, della Joao Norris, il punto in due partite è stato un attimino deleterio. Quindi, comunque, classifica fantacalcio laghe, Joao Norris primo con 20 punti fatti e 809 punti fantacalcio. Al secondo posto Interlai con 20 punti ma soltanto 781,5 punti fantacalcio. Al terzo posto ha 18 punti FC con 814,5 punti e al quarto posto Melino Steam con 18 punti ma solo 804,5 punti. Al quinto posto troviamo Suppostim con 12 punti e 782,5 punti fantacalcio e all'ultimo posto Fanalino di coda con solo 4 punti troviamo Forza Juve 4 punti come dicevamo e 711,5 punti di fantacalcio diciamo dati dai voti. Quindi, come vedete nel fantacalcio non conta quanti punti fai ma conta saperli distribuire molto bene interlive se guardiamo il quinto risultato totale visto che sarebbe al quinto posto come punti totali però ha sfruttato bene le gare eccetera eccetera si trova a pari merito al primo posto certo se finisse adesso vincerebbe Joe Norris il campionato perché ha nettamente 30 punti di vantaggio su di me più o meno sulla interline però io 20 punti li ho portati a casa più 16 sull'ultimo classificato che comunque ripeto io quest'anno prima arrivo in una zona salvezza meglio è e poi tutto quello che viene in più è guadagnato perché ricordiamoci io l'anno scorso ho vinto il fantacalcio quest'anno sono lì per ora sono lì sto lì tranquillo la prossima sfida ci penserò quando sarà il momento adesso c'è da gustarsi un mondiale alla grande quindi ci penseremo dopo perché signori miei dopo il mondiale può succedere di tutto può succedere bisogna vedere i giocatori che rientreranno da bordiare come staranno se rientreranno tutti sani se qualcuno ahimè fa la fine del povero Dragoschi che l'altro giorno è stato veramente brutto vedere quell'immagine del del buon Dragoschi con la zampina rotta e non è bello signori non è per niente bello speriamo riesca a rientrare e a essere sempre competitivo però temo che per lui il campionato è finito tra l'altro sarebbe andato ai mondiali insieme agli altri portieri della sua nazionale che tra l'altro giocano in Italia Shesley e l'altro non me lo ricordo e invece dovrà guardarseli a casa certo la sua nazionale non penso che andrà a vincere il mondiale però partecipare a un mondiale è sempre sempre bello staremo a vedere io intanto mi godo il mio secondo posto a pari merito anzi il primo posto a pari merito anche se è secondo e poi vedremo come andrà il resto eh purtroppo c'è gli ollie sia albelino stil che è fecinda sono lì a due punti sarà una lotta fino alla fine con attenzione alla suppostin che potrebbe rientrare in gioco mentre forza giuve signori miei è dura per forza giuve adesso perché sono cominciano a essere tanti punti di differenza anche dalla quinta infatti scherzosamente il buon Marco diceva ho già ho già pronto vi faccio subito vi pago subito a Natale facciamo il pranzo a Natale in pizzeria posto dopo Natale perché oramai non mi faccio troppe illusioni però non è detto ragazzi non è detto il fantacalcio la gay è tutto il divenire può succedere di tutto come dicevo fa i cambi giusti la sua squadra non è scarsa il problema è che ha tanti giocatori che sono infortunati tanti giocatori che si giocano un posto in squadra e quindi a volte giocano a volte non giocano ma non è che è una squadra scarsa se gli rientrano i pop by di Maria eccetera eccetera possono essere tanta roba lui ha puntato molto sugli giuventini e va bene comunque staremo a vedere per ora il gigione è felice però i conti si fanno alla fine adesso è molto 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 presto detto questo io vi saluto vi ringrazio per il momento il fantacalcio laghello mettiamo in soffitta fino a gennaio e poi a gennaio vedremo poi non so se vogliono fare già un'asta di riparazione prima che ricominciamo oppure la facciamo direttamente a febbraio io credo che sarebbe l'ideale sarebbe farla a febbraio quando rientrano i giocatori quando fanno anche il nuovo mercato in modo che hanno dei giocatori nuovi da prendere perché sennò devi sempre prendere quelli che non sono stati presi alla prima diciamo asta e non è che c'è granché in giro tanto meglio non penso che un forza giovedì mi cede un po' bau di Maria per prendere qualcuno degli altri quindi te dai quelli e poi vedremo poi a febbraio se è arrivato qualcosa di un attimino gustoso per poter fare dei cambi o se no si fanno dei cambi molto molto semplici con giocatori che hanno giocato poco o che non hanno reso come si sperava e li si sostituisce con qualcuno che si spera che faccia un pochettino meglio vedremo sentiremo per ora tutto tace a parte le battutine e per il resto ci si vede alla prossima ciao ciao